Arriva dalla Russia un sentito appello per la pace nel mondo, a lanciarlo donna emerita Taria di Borbone, che insieme al principe Junsuke e alla delegazione della nuova diplomazia reale, negli scorsi anni ha più volte manifestato il suo amore per Palermo. Tanti gli incontri nel capoluogo siciliano, scelto più volte dalla nuova diplomazia reale, quale sede per promuovere scambi solidali e culturali tra i popoli. Un percorso interrotto prima dalla pandemia e oggi dalla guerra in Ucraina. Così dalla chiesa di San Salvatore sul Sangue versato a San Pietroburgo, luogo caro alla nobile donna, poiché all'interno della chiesa giacqua il cadavere del marito ucciso da un comunista sovietico, arrivano significative parole per dire no alla guerra. Vorrei dedicare questo momento alla pace nel mondo, ma anche al cuore di ogni essere umano sulla terra, ovunque viva, qualunque età abbia, qualsiasi colore sia la sua pelle, qualunque sia la sua religione. La pace ci fortifica, apre il cuore, rischiude la nostra mente ricordandoci la vita eterna. La vita è sacra e sia celebrata. È meravigliosa quando siamo capaci di mantenere la pace. Stiamo attraversando il periodo di primavera che abbonda di speranza e nuova linfa. La osserviamo venire fuori dal suolo, questa terra che celebra i cerchi della vita e i cicli delle stagioni dell'anno, ha concluso Donna Chiara di Borgone.